E' domenica 31 dicembre, anche l'ultimo giorno dell'anno, tanti auguri e intanto entriamo subito nel nostro Tg con una notizia purtroppo di cronaca. Incidente stamani sulla regionale 71 a Ossaia di Cortona, dove un ciclista a 50enne è stato investito da un'auto. Nell'impatto è caduto a terra rimanendo ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti i sanitari della misericordia di Cortona. L'uomo è stato portato al policlinico Le Scotte di Siena, dove è stato ricoverato in codice rosso sul posto i carabinieri per i rilievi di legge. E adesso parliamo di queste festività dell'ultimo dell'anno. Arezzo Città del Natale entra nella sua fase conclusiva e l'occasione per fare un primo bilancio di questa straordinaria edizione. Arezzo Città del Natale, questo è l'ultimo fine settimana della Lego House qui in piazza San Francesco e dei mercatini tirolesi in piazza Grande. È dunque possibile fare un bilancio di questa edizione? Quali sono stati i riscontri? Direi che è un bilancio ottimo, molto positivo, in crescita rispetto alle passate edizioni. La Lego House ha conquistato tutte le famiglie, tanti bambini che sono venuti da tante parti d'Italia. Siamo molto soddisfatti come Confcommercio di aver realizzato ancora una volta in questa splendida galleria d'arte questa manifestazione. Il mercato tirolese è sempre uno dei fulcri della Città del Natale, un punto di riferimento. Quest'anno l'allungamento ha funzionato fino al primo di gennaio, quindi saremo aperti anche il primo di gennaio e quindi un bilancio molto positivo. Lego House e mercatini tirolesi, a quante persone hanno dato lavoro? Ma tantissime, oltre 90 al mercato tirolese in piazza Grande, oltre 10 qui alla Lego House, quindi davvero un indotto anche importante per ragazzi e ragazze di Arezzo. Vogliamo ricordare come proseguirà Arezzo Città di Natale? Sì, continuano chiaramente dopo il primo di gennaio le attrazioni di Arezzo Città del Natale al Prato, con il mercatino delle meraviglie, con lo splendido Bosco Illuminato, che quest'anno ha riscosso grande successo grazie al lavoro della Fondazione Arezzo in Tura. E quindi davvero vi aspettiamo fino al 7, chiaramente, per vedere queste bellissime attrazioni. Avete avuto l'impressione che le polemiche siano state inferiori rispetto agli anni scorsi? Ma diciamo che qualche disagio c'è sempre, però ogni anno miglioriamo qualche aspetto e sono convinto che anche nei prossimi anni riusciremo a limare gli ultimi aspetti che mancano. E a proposito di limare, forse c'è da limare anche l'utilizzo dei botti tra ordinanze ed appelli. Si cerca appunto di evitare che i botti possano disturbare animali e persone fragili. C'è chi si appella al buon senso dei cittadini e chi firma ordinanze. Le amministrazioni sono comunque a raccomandare di evitare i botti di Capodanno, perché se da una parte fanno festa, dall'altra spaventano gli animali e le persone fragili. Soprattutto sono da evitare in zone dove ci sono case di riposo, ospedali e altre strutture che accolgono persone in stato di sofferenza. Ad Arezzo, a San Giovanni Valdarno, a Montevarchi, sono state firmate delle ordinanze, proprio per evitare che i botti possano creare problemi in centro, nelle zone, come dicevamo, per il caso di Montevarchi, intorno all'ospedale di Santa Maria alla Gruccia, la casa di riposo di Montevarchi. C'è poi un discorso un po' più ampio che è quello fatto dall'amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino, che invita i concittadini a prestare attenzione, ad evitare di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari nei pressi dei luoghi sensibili. Di non sparare i botti di fine anno in presenza ravvicinata di minori, di non condurre animali d'affezione, in particolare cani e gatti, dotati di udito particolarmente sensibile, i luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Insomma, si può salutare l'anno con la musica, si può salutare l'anno con un brindisi, soprattutto con un sorriso, ma se si evitano i botti, sicuramente l'anno sarà migliore. Evitarli anche nelle zone delle frazioni, spesso le ordinanze non coprono queste zone, ma spesso invece i disagi maggiori si avvertono proprio fuori dal centro. E sotto il profilo della sicurezza e dell'emergenza sanitaria è tutto pronto per questa notte. L'evento principale per questa ultima notte dell'anno è in piazza Sant'Agostino ad Arezzo, ma anche in provincia non mancano le occasioni pubbliche. Ci siamo sentiti costantemente negli ultimi periodi, sia con l'organizzazione, che con l'amministrazione comunale, che con il comandante. Questo ha portato a un piano che è completamente dinamico e potrà garantire la sicurezza in piazza. Le nostre risorse dedicate alla piazza sono due ambulanze e un medico con sei soccorritori. Questo garantirà una copertura totale dell'evento, in sicurezza e anche una copertura della popolazione, perché così avremo modo che le risorse dedicate all'evento non vadano a distogliere risorse al territorio e alla cittadinanza per gli interventi ordinari. Naturalmente è una serata eccezionale. Avete avuto risorse aggiuntive? Sì, grazie alla collaborazione con il volontariato Misericordia, Ampas e Croce Rosse abbiamo la possibilità di avere due risorse aggiuntive, una sulla città di Arezzo e una in Val D'Arno, con stazionamento presso la Misericordia di San Giovanni Val D'Arno. La copertura del territorio con queste due risorse aggiuntive ci garantisce di lavorare con una maggiore tranquillità la copertura della notte di Capodanno. È una notte che è sempre un po' particolare, sia per il rischio botti, sia per il rischio di abuso eccessivo di sostanze alcoliche. Quindi avere due mezzi in più sulla provincia non è male. E lunedì 1 gennaio resteranno chiusi tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche. Se in Toscana comunica le variazioni e i servizi previste per i comuni della provincia di Arezzo in occasione del 1 gennaio, ovvero del Capodanno. Cliccando sul portale www.seitoscana.it il nome del comune di residenza è possibile visualizzare tutte le relative informazioni. Nei comuni della provincia di Arezzo, dove è attiva la raccolta domiciliare, Arezzo, Castelfranco, Piandisco, Castiglion-Fibocchi, Castiglion-Fiorentino, Civitella in Valdichiana, Cortona, Foiano, Laterina, Pergine-Valdarno, Loro-Ciuffenna, Lucignano, Marciano, Monte San Savino, San Sepolcro e Terranuovo a Bracciolini, lunedì 1 gennaio 2024 i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente. Sei Toscana ricorda anche che lunedì 1 gennaio resteranno chiusi al pubblico tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche del territorio e anche il numero verde non sarà attivo. Pronto per le elezioni del 2024, Filippo Vagnoli, sindaco di Bibbiena, fa gli auguri ai suoi concittadini parlando già dei lavori pronti per i primi giorni del nuovo anno. Si chiude il 2023 anche per l'amministrazione comunale di Bibbiena con Filippo Vagnoli pronto anche alle nuove elezioni amministrative, ma si apre anche un 2024 già pieno di tanti obiettivi e progetti. Quindi è tempo di fare gli auguri a tutti i cittadini, a tutte le vostre famiglie, di un felice, un sereno anno nuovo. Un anno nuovo che vedrà tanti progetti anche da parte nostra, tanti progetti in corso sulle scuole, sulla viabilità, sui parchi, sulla cultura, sul sociale, ma anche tanti progetti nuovi, per esempio la costruzione del nuovo asilo nido che partirà appunto nei prossimi mesi ed anche la riqualificazione della piazza Garibaldi di Soci, anch'essa in fase di appalto proprio in queste settimane. Quindi siamo felici di questo, ma è anche tempo, la fine dell'anno, per fare un bilancio dell'anno che è stato. Innanzitutto un ringraziamento va a tutta la mia squadra come sempre per il grande appoggio perché tutto quello che riusciamo a fare è grazie all'impegno di tutti, al lavoro di squadra. Un ringraziamento a tutti i cittadini, grazie per la vostra fiducia, perché se non fosse per la vostra fiducia non saremmo qui a fare tutte le opere, i progetti che stiamo portando avanti per migliorare il nostro territorio. Quindi grazie a voi perché ce lo state facendo sentire ogni giorno, sempre con costanza, il vostro appoggio che ci dà appunto la forza di andare avanti. Il 2023 è stato un anno pieno, ricco di tantissime iniziative, di tantissimi eventi, nonostante le difficoltà che ci sono nel mondo che vediamo. Un anno ricchissimo, ma anche il 2024 sarà ricchissimo di tanti eventi, tante iniziative, grazie al vostro appoggio. Arezzo come ottimo esempio da seguire per le iniziative natalizie. Questo è quanto dichiarato a Gubbio da alcuni consiglieri comunali durante l'ultima seduta del Consiglio, nella quale è stato approvato il bilancio di previsione. Approvato a Gubbio, nell'ultimo Consiglio Comunale, il bilancio previsionale con 14 voti favorevoli e 7 contrari. Questo al termine di un lunghissimo dibattito, cominciato a metà mattinata e terminato in tarda serata, ben oltre le 20 di sera. Soddisfatto l'assessore al bilancio Marco Morelli, che ha confermato che i servizi sono aumentati, mentre le tariffe non hanno subito variazioni. Unica tassa ad essere aumentata è quella di soggiorno, utilizzata per finanziare l'ufficio turismo e tanti eventi organizzati a Gubbio durante l'anno, tra cui spiccano anche quelli relativi al periodo natalizio. Proprio su questo argomento, diversi consiglieri, sia di minoranza che di maggioranza, nei loro interventi hanno portato l'esempio positivo della città di Arezzo, come modello da seguire, sottolineando come, seppur in meno tempo, questa città sia riuscita a mettere in atto una macchina organizzativa molto più funzionante ed attrattiva, confermata dal tanto turismo a suon di numeri da record. A Gubbio c'è ancora da migliorare sull'esigua presenza di mercatini, sulle varie attrazioni turistiche e sulla promozione, nonostante il flusso non sia mancato e le strutture ricettive fossero tutte piene, anche grazie al traino dell'albero di Natale più grande del mondo. Ed il 2024 vedrà molte amministrazioni della provincia retina andare a rinnovo. Facciamo il punto sulla politica cortonese. A Cortona inizia a scaldarsi sempre più il clima politico in vista delle elezioni 2024. Molto si è detto sul fronte del centro-destra, anche se ancora i giochi non sono fatti. Per il centro-sinistra invece, attendendo le primarie del PD, su cui qualcuno inizia a dubitare, c'è da dire che è nato un nuovo soggetto politico che darà vita alla lista, uniti a sinistra per Cortona, con volti già noti. Da Giovanni Castellani, già presidente della Calcet, ad Andrea Mazzeo, partito comunista, passando per Lidio Rossi, Cigielle e Daniele Monacchini, con un passato pentastellato. Tra le prime prese di posizione, la difesa dell'ospedale della Fratta, in un momento di paventati tagli sanitari, dopo che la Regione ha aumentato l'IRPEF. E alla Regione non le mandano a dire «Da troppo tempo i nostri concittadini subiscono una sanità depotenziata», scrivono in una nota, tanto che i posti letto a forza di tagli oggi mancano. La diagnostica per immagini e le visite specialistiche sono delegate in gran parte ai privati e al pronto soccorso sono impegnati anche i medici dei reparti, aumentandone stress e carichi di lavoro. Da Gianni, intanto, sono arrivate rassicurazioni. I presidi non chiuderanno. Torniamo a parlare di iniziative natalizie. Ci spostiamo a Castiglion-Fibocchi, un grande presepe animato, nel cuore del centro storico accolto in questo Natale. Tantissimi visitatori. Nel centro storico di Castiglion-Fibocchi, un presepe animato, dove c'è emozione, dove c'è sentimento, dove c'è una storia che parte dalla notte, dalla nascita di Gesù Bambino, al giorno, quando risplende il sole, risplende proprio perché è venuto a tutti noi. E in questo caso è stato Pierluigi, che ha fatto questo lavoro insieme a Stefano. Questi due castiglionesi che si sono messi al servizio, hanno unito una voglia, una passione, e ci hanno regalato questo bellissimo presepe a tutti i visitatori. Un presepe che è durata la sua costruzione quanto tempo? Praticamente ci sono voluti tre anni, lunghi, però tre anni bellissimi, dove ci siamo veramente dedicati, ci siamo calati in questa idea, è bello, bello veramente, ci siamo divertiti un sacco. Ci sono divertiti, hanno lavorato insieme, e alla fine hanno dato al paese una bella opportunità, quella di avere persone che possono venire, perché questo qui è un presepe aperto, è giusto? Sì, è aperto sempre nel periodo di Natale, sempre, tutti i festivi, il sabato e la domenica, e poi a chiamata si può venire in qualunque momento. Siamo arrivati al termine del nostro telegiornale, ma vi segnaliamo che cosa accadrà questa sera, nell'ultima serata infatti del 2023, subito dopo il Tg delle 20 e 30, potrete assistere alle interviste di fine anno, la retrospettiva su quanto accaduto durante l'anno, le prospettive per il prossimo, nelle parole dei protagonisti della realtà retina. La serata proseguirà con un anno amaranto, a cura di Luigi Alberti, e al termine Teletruria propone una lunga notte in musica con i protagonisti di Arezzo Wave Contest. Vi ricordo anche che prosegue il nostro cinema, domani una parentesi con un film dedicato al bullismo, e poi ripartirà la nostra rassegna dedicata a Tyron Power. È tutto per quanto mi riguarda, davvero tanti cari auguri per un 2024 sereno. Grazie e arrivederci. Grazie.